Berto Triolo, questa è la rassegna stampa di Radio Fantastica, quante volte sei stato sopra uno skateboard? Tante volte. Tante volte? Sì, io pochissime volte e ho detto vabbè non è cosa mia, cioè non riesco proprio neanche a fare dieci metri che già ero, un pessimo sportivo. E ne ho fatto un uso disparato dello skate. Davvero? Sì. Addirittura. Dai, ne parliamo subito con chi ne fa praticamente oggi un monumento anche insieme alla Federazione Italiana dello Sport per quanto riguarda il movimento delle ruote. Rotellisticamente parlando, parliamo dello skate e lo facciamo con il responsabile della Commissione Skateboarding Nazionale, Luca Basilico. e scopriremo non solo le radici dello skateboard, ma anche di quello che è il futuro di questa disciplina, perché ci sono tante novità. Buongiorno Luca, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi. E allora, Luca Basilico, responsabile della Commissione Nazionale per quanto riguarda la disciplina dello skateboard skate, che ormai dopo averlo importato negli anni Sessanta, più o meno circa, perché nasce da lì appunto in America, ormai è un movimento che si consolida anno dopo anno in Italia. Sì, e la storia dello skateboarding in Italia ha radici abbastanza profonde. Diciamo che i primi a importare, proprio come detto, lo skateboarding negli Stati Uniti e cominciare ad operarlo, sono stati negli anni Settanta, spazialmente. Poco più di un decennio da quando si cominciò realmente a fare pratica anche sportivi. Senti, ma è vero che lo skate nasce da un'esigenza, dei surfisti, perché magari se non siamo in acqua lo facciamo magari a terra? Nasce un po' da quella costola? Sì, sì, allora è un po' una tradizione che va a sforo un po' nella leggenda, ma comunque si dice che in quegli anni in cui si cominciò a praticarlo in una forma più simile a quella odierna, fu proprio quando in una stagione di estrema criticità in California, i surfisti cominciarono a cercare alternative alle onde d'acqua, spazialmente. Poi in realtà, diciamo così, forme rudimentali di skateboard se ne vedono se dall'anno 40 di futuro. L'idea di avere questi carrellini su cui saltar sopra, diciamo. Quando hanno inventato i pattini a rotelle, poco dopo qualcuno ha pensato di staccare le ruote i pattini e appiccicarle sotto un pezzo di letto. Si è cominciato da lì. Più uno stile di vita o un mezzo di trasporto per qualcuno? Ma tutto tutto, nel senso che la cosa bella dello skateboarding è che è molto facile accedervi, nel senso che costa poco e si può praticare ovunque. E questo chiaramente dà la possibilità a tutti di farne un po' quel che vogliono. C'è sicuramente chi ci dedica la vita e si lascia assorbere dallo skateboarding in maniera completa e quindi diventa proprio uno stile di vita. E c'è invece anche chi in più tempo e magari anche più recenti, il movimento si sta allargando molto, ne ha un approccio allo skateboarding in più, diciamo così, da un passatempo, da mezzo di trasporti, quello che capita. Quante volte la mamma di Luca Basilico ha detto a Luca basta, so skate lo butto? Guarda, in realtà poche volte, poche volte, perché mi ha sempre visto così felice e così appagato dall'andarci che, no, c'è che penso non l'abbia mai fatto, a parte buttarmi via delle tavole che collezionavo perché avevano litigato, vabbè, però quelle sono altre cose tra padre e figlio. Però proprio non si è mai opposta al fatto di andarci a skateboard. Numero di skate posseduti? Urca, siciliano, lo sai che lo skateboard si cambia a pezzi. Appunto, anche perché sullo stile dei motorini anni 80-90 anche gli skate venivano, tra virgolette, truccati, no? Si smontavano alcuni pezzi? Sì, nel senso che, solitamente il primo skateboard che uno possiede è quello che definiamo lo skateboard completo, uno skateboard già sempre preassemblato e poi piano piano uno decide cosa preferisce in uno skateboard. Chi preferisce avere le ruote 55 mm e non 52 di diametro, c'è chi vuole spendere un po' di più per i cuscinetti e compra quelli più precisi, c'è chi vuole la tavola più stretta, più larga, i tracks che sterzano in un certo modo. Insomma, come tutte le cose, diciamo così, praticate di fino, poi c'è anche una sensibilità che ti porta a scegliere questo o poi il componente secondo di quelle che sono le tue preferenze. Quindi, in realtà, gli skateboard sono dei mostri in continua e progressiva evoluzione. Considera che uno skater che skata, diciamo così, assiguamente, consuma almeno una tavola o di mese e 4 o 5 treni di ruote all'anno. Senti, Luca, il personaggio simbolo nei cartoni animati per lo skateboard è senz'altro Bart Simpson. Ecco, ti sei mai sentito un po' Bart Simpson? Beh, diciamo che, soprattutto quando fai street skating, quindi quando vai per strade, quindi tendenzialmente sei un po' in quella condizione borderline nei rispetti del codice della strada e di chi ti vede in giro, ti senti un po' discolo, come dire, alla Bart. Quindi sì, sì, spesso. Imprecazioni ricevute? Uff, una quantità inimmaginabile. Quella che ti ha segnato di più? Cioè, raccontaci tutto, proprio, il fatto. Cosa è successo? Eri in strada, sicuramente, e avrai tagliato la strada a qualcuno. Ma è soltanto. Quelli che in genere ti turbono un po' sono quelli che ti augurano la mora. Stai attento che ti uccidi o cose del genere. Tu stai pensando a quello che devi fare, concentrato sulla tua, diciamo così, performance, e c'è uno che ti installa, instilla quel gubio, che tra l'altro è remotissimo. Però quello di solito è una cosa che ti turba abbastanza. Il gufo è il gufo, bravissimo, il gufo è quel gufo, ma mollami. No, ma io parlavo in strada, cioè in strada ti è mai successo qualcosa, hai fatto arrabbiare qualcuno in modo particolare? Allora, considera che ci sono quelli a cui ci riferiamo normalmente con spot, che sono quei luoghi della città dove si va a schitare, perché la conformazione architettonica ti permette di fare questo e quello. E soltanto gli spot sono i luoghi proibiti, quindi il classico, non so, ingresso della banca, piuttosto retro del negozio, situazione un po' così, è uno se la prende se ci vai a fare skateboard, perché non gradisce, e lì in genere quando ci sono un po' di confronti su quei temi, diciamo, fuori dalla mia proprietà. Adesso però lo skate non è più roba da scalmanati, ma è una disciplina nazionale. Ecco, questo passaggio vi anche resi un po' orgogliosi? Ma sì, allora, è bello che la gente cominci a capire. Cominci a capire anche, relato a quello che ti dicevo prima, anche queste idee che sta cominciando a passare di un bell'utilizzo attivo dello spazio urbano. Quindi non pensare più alle piazze come luoghi dove ci sono panchine e ci si siede a mangiare il gelato, ma sono luoghi dove si esce, si fa vita attiva e si utilizzano le strutture architettoniche in una maniera che è diversa dallo standard e ti permette di divertirti di fare attività ricreativa, di fare sport. Ed è una cosa che si sta allargando sull'esempio dello skateboarding anche ad altre discipline. Senti Luca, per chiudere questo nostro momento insieme, come avete preso voi con la Federazione Italiana Sport Rotellistici la notizia che nel 2020 doveva succedere più che altro a ottobre con l'ingresso delle Olimpiadi proprio a Tokyo? Anche lo skate era protagonista in queste nuove Olimpiadi. Adesso tutto è spostato, però lo ricordo a Tokyo tra l'altro l'anno prossimo verranno organizzati due eventi di street e park in cui parteciperanno 20 skater maschi e 20 donne per ogni disciplina. Qual è stata la chiave di svolta soprattutto per portare uno sport stilisticamente straordinario? Tra l'altro perché ci sono dei grandissimi atleti che veramente hanno quei piedi incollati allo skate fanno delle cose straordinarie. Qual è stata la chiave per aver portato tutto davanti al CIO? Diciamo che una cosa fondamentale è che lo skateboarding è iniziato a evolvere da quell'idea di semplice sottocultura a qualcosa di più già dalla metà degli anni 90. Nel senso che da quando si sono inventati gli X Games ad oggi sono successi un determinato numero di cose per cui lo skateboarding è già inventato uno sport praticato a livello di massa. Magari in nazioni come la nostra un po' di meno, però di fatto ha i numeri e la statura anche a livello di gradimento da parte dei giovani del pubblico per fare le Olimpiadi. E chiaramente il Comitato Olimpico internazionale che ha il dovere di evolvere i giochi olimpici nella direzione del gradimento di chi fa sport e dei nuovi sport, ha notato che le discipline come lo skateboarding, come il surf, come la BMX, come il style, cominciavano a far breccia tra i gusti dei giovani e anche dei meno giovani e da lì si è la volontà di includere nuovi sport. Per noi ovviamente ci sono, ognuno ha la sua opinione, per chi ha un po' più di mentalità aperta anche nel movimento dello skateboarding è una cosa positiva perché aggiunge sostanzialmente un livello ulteriore di possibilità e di opportunità che chi vuole cogliere può cogliere e per nazioni come l'Italia sono opportunità importanti che altrimenti non avremmo mai avuto. Velocissimamente, in Sicilia che movimento c'è per quanto riguarda gli skater? Si chiamano così i profili che vanno sullo skate? La Sicilia ha sempre avuto una scena vivissima, ovviamente con Valermo e Catania a fare la parte del leone. Sicuramente un'infrastrutturazione che è un po' a zero, nel senso che ci sono attualmente uno skate park più bello di Sicilia da Ragusa ed è veramente bello e si può dire che è la prima struttura di livello nazionale presente sul Disa, ma in Sicilia si è sempre skateato e si è sempre skateato tanto e la Sicilia è famosissima nel mondo proprio per chi viene a fare street skating in Sicilia, nel senso che negli ultimi 15 anni almeno da tutto il mondo c'è gente che viene in vacanza a fare delle proprie skate holidays in Sicilia proprio per skateare le strade della Sicilia. Sai che ci dai una gran bella notizia perché onestamente non sapevamo di questo primato, posso dire un piccolo primato nostro dell'isola? Lo possiamo dire? Guarda, chiunque vai su YouTube, chiunque può verificarlo, fai skate tour a Sicilia e vedrete quanti ce ne sono. Tanta roba. E allora, la possiamo chiudere così. Io ti ringrazio Luca perché sei stato disponibilissimo, simpaticissimo e portiamo avanti gli sport, quelli che li chiamano gli sport minori, tra virgolette, ma non lo sono perché oggi parliamo di uno skate che va agli Olimpiadi l'anno prossimo e ne sentiremo davvero parlare, conosceremo diversi profili davvero straordinari e simpatici. E tutto questo c'è la Federazione Italiana Sport Rotellistici e Luca Basilico, responsabile della Commissione Skateboarding Nazionale. Grazie per essere stato qui con noi. A voi, buona giornata. Ringraziamo Luca Basilico.